benvenuti questo nuovo video nel quale vi voglio mostrare come provare il sistema operativo di google chrome os sulla nostra ubuntu ed ecco che la seconda occasione che mi prendo nella quale con la quale mi prendo una pausa da ubuntu stessa per mostrarvi un sistema operativo alternativo nel recente passato vi ho già mostrato in un altro video come installare android sempre su ubuntu in una macchina virtuale e oggi con questo video facciamo altrettanto ma con il chiacchierato famoso insomma se ne parla a scadenze regolari di questo chrome os che non ha ancora sfondato non si sa se sfonderà mai veramente però essendo un prodotto di google se ne parla e quindi avendo nella possibilità possiamo provarlo per toccare con mano come si suol dire allora come si fa prima di tutto si deve scaricare un pacchetto di installazione perché bene si cromo s l'installazione di cromo s si riduce in sostanza l'installazione di un pacchetto comodissimo per ubuntu si installa questo pacchetto ci ritroviamo già cromo s disponibile ora si deve andare a questo indirizzo eccolo qua che ovviamente come sempre vi lascio in descrizione e questo indirizzo l'ho già aperto qui nella mia bella macchina virtuale con così per vostra informazione questa macchina virtuale ha installato ubuntu 12.10 quindi la versione ultima corrente ufficiale di ubuntu ecco quindi si va a questo indirizzo come come dicevo poc'anzi e eccolo qua e ci si ritrova in questa pagina nella quale scorrendo verso il basso è possibile appunto scaricarsi il pacchetto necessario a installare chrome os su ubuntu vedete qui che ci sono che già degli screenshot in questa pagina questo è lo screenshot di entrata alla login dove vedete presentato cromo s che dicevo in modo comodissimo con un pacchetto perché questo pacchetto non solo ci installa cromo s ma ha già integrato l'integrazione scusate il gioco di parole con la login di ubuntu iniziale nelle varie sessioni quindi oltre alla nostra unity normale ci troveremo anche cromo s come vedremo come installare ecco qua qui ci sono le istruzioni o meglio cosa occorre per installare ed ecco qui il link quindi l'indirizzo per scaricare il pacchetto quindi cosa facciamo senza aprire un terminale possiamo anche selezionare tutto questo indirizzo vedete che il finale di questo indirizzo è proprio il nome del pacchetto punto deb quindi un pacchetto di installazione tipo debia quindi anche per ubuntu se usate chrome chromium o chrome come me basta che facciate tasto destro vai alla pagina https eccetera eccetera si fa click e immediatamente ci presenta la domanda qui per conservare o annullare lo scaricamento di questo pacchetto con l'avviso che può essere pericoloso può danneggiare il computer eccetera vabbè noi diciamo conserva e ci scarica il nostro pacchetto di installazione piccolissimo avete la già scaricato show in folder ecco dovete sempre scusare un attimo quando uso la macchina virtuale perché è più lenta come potete vedere è più lenta di di una macchina vera normale perché il mio pc non è potentissimo in più forse ve l'ho già detto in un altro video precedente dove usavo già allora questa stessa macchina virtuale virtual box in questo momento con ubuntu ha un problema nella gestione dell'accelerazione grafica ed è più lenta del normale perché solitamente la macchina virtuale non è poi molto diversa da una macchina vera ma in questo caso lo si nota proprio quindi abbiate pazienza ecco qui avevo già scaricato il pacchetto che era questo lo stesso lui mi ha scaricato un'altra versione ho fatto vedere come si fa però posso anche cancellare il doppione e ci teniamo il nostro pacchettino una volta che l'abbiamo scaricato dobbiamo installarlo e come si fa doppio clic oppure giusto per didattica ve lo mostro tasto destro il doppio clic corrisponde a apri con ubuntu software center ecco io l'ho già aperto per evitare troppo attesa nell'apertura ecco qua quando fate doppio clic su un pacchetto deb scaricato così o tasto destro ubuntu software center apre il pacchetto si posiziona vi mostra il nome del pacchetto e vi dice di installare eccetera eccetera schiacciamo installa quindi schiacciamo installa ecco qua installazione ci chiede la password naturalmente mettiamo la nostra password enter e aspettiamo l'installazione speriamo che non sia troppo lunga questa macchina virtuale comunque stiamo facendo ecco il procedimento per installare chrome os su ubuntu abbiamo scaricato e stiamo installando il pacchetto ecco ecco avanzamento qua sopra quindi dobbiamo aspettare con pazienza che la macchina virtuale faccia il suo lavoro qui ero in dubbio prima di iniziare a registrare il video se già installarlo o mostrarvi live l'installazione adesso sto aspettando che installi spero appunto che non ci metta troppo perché come ho detto è piuttosto lenta la macchina virtuale quindi ero in dubbio se risparmiare questo tempo questi minuti di installazione o meno spero non duri un'ora perché non saprei neanche bene cosa dirvi durante questa attesa comunque portiamo pazienza è tutto in diretta così vedete cosa ci mette su una macchina lenta se volete una macchina più veloce sicuramente avrà già finito di installare a quest'ora ecco qua viene fuori una finestra durante l'installazione non credo che ci chieda qualcosa vediamo un po cosa succede ecco sparisce da sola diciamo che il vantaggio della lentezza se non altro è che vi mostra veramente cosa succede in un computer veloce quella finestrella che avete visto sarebbe apparsa in pochi istanti avete fatto tempo a vederla bene vabbè prendiamola così didatticamente non è una brutta cosa ecco arrivato stando alla barra qua di progressione è arrivato a metà speriamo che ecco qua molto bene quasi finito dovrebbe praticamente aver finito stando a quanto indica il software center però le freccette qui stanno tuttora lavorando qua sopra avanzamento vediamo spero che sia quasi al termine per fortuna che almeno le freccette si muovono così sia l'idea che stia facendo qualcosa altrimenti su coraggio vediamo un po vabbè tanto mi arrivato un mail non c'entra nulla con questo video ma pazienza sembra giunto alla fine vediamo un po il pulsante di avanzamento è sparito ecco qua ho molto bene tutto sommato non ci ha messo nemmeno tanto e quindi fate una proporzione con il vostro pc sicuramente più veloce non in macchina virtuale o anche in macchina virtuale ma più performante vedete che in fin dei conti non ci ha messo tanto in questo quindi possiamo chiudere l'ubunto software center perché ha fatto il suo lavoro e adesso lo chiuso un po l'ha preso coraggio ecco lo sto chiudendo possiamo chiudere anche la nostra file manager perché il pacchetto lo abbiamo usato è praticamente finita lì come installare abbiamo fatto il nostro lavoro il resto della pagina parla di cosa lo stato attuale funziona e di cosa non funziona ancora in questo pacchetto di prova di Chrome OS cosa funziona e cosa non funziona perché è un come si suol dire in gergo work in progress quindi non è finito qui il lavoro non è perfetto il pacchetto però si può già usare e avere un'idea di cosa vuol dire usare Chrome OS quindi perfetto chiudiamo anche Chromium ecco qua che con tutta calma si chiude qui dovevo aver aperto un paio di finestre chiudiamo anche questa chiuso tutto perché dico chiuso tutto perché adesso terminato di scaricare e installare il pacchetto devo uscire dalla sessione si termina la sessione nel menu di login e nel menu si trova quindi la nuova sessione Chrome OS quindi io mi aspetto che adesso uscendo dalla sessione quando mi chiederà la password io posso scegliere il sistema operativo alternativo Chrome OS quindi procediamo ho schiacciato due volte allora termina sessione e non arresto o riavvia ma è sufficiente un termina sessione per abbandonare Ubuntu Unity e poter accedere al nuovo Chrome OS quindi termina sessione sì fin qui tutto bene adesso arriviamo al momento importante tra un po' ecco qui vedete ancora una volta come può essere lenta questa macchina virtuale vi ho già detto il perché insomma finché VirtualBox non manda un aggiornamento che corregge la gestione della grafica della gestione dell'accelerazione grafica siamo messi così pazienza ecco allora chi di voi ha installato Ubuntu 12.10 saprà o avrà notato che quando c'è solo Ubuntu installato non c'è il simbolo di Ubuntu qui che permette di scegliere sessioni diverse non c'è, non appare perché se c'è una sessione sola è inutile che ci sia avendo installato Chrome OS adesso vedete che magicamente è apparso il simbolo di Ubuntu noi facciamo clic sul simbolo di Ubuntu e ecco qua vedete c'è Ubuntu predefinito che è il solito e è apparso Chrome OS Chromium OS addirittura si chiama Chromium OS francamente in rete c'è scritto Chrome OS e dicono tutti che si chiama Chrome OS il fatto che qui esca Chromium forse è il suo nome completo non lo so o è la versione un po' come i due browser Chrome rispetto a Chromium Chrome OS rispetto a Chromium OS sarà la versione open source del sistema operativo probabilmente ipotizzo quindi si sceglie Chromium OS e si fa ok ecco la password è sempre quella quella che usate per entrare anche in Ubuntu quindi non è una password nuova ma voi usate sempre la vostra password enter e qui abbiamo scelto appunto Chrome OS possiamo vistare questo punto quindi si accede con la user e la password di Ubuntu quindi avete visto accesso con la mia user Nicola e la mia password di Ubuntu però ho scelto Chrome OS ed ecco qua che ci si collega ecco qua la prima entrata in Chromium OS o Chrome OS vedete un po' quindi si accede fatto e poi ci si può collegare con il proprio account Gmail oppure si accede come guest ecco questo lo vediamo fra un attimino vedete che io sto cioè anzi non vedete il puntatore del mouse anche se io lo sto muovendo all'interno della finestra e qui c'è un punto nel quale cito questo eventuale problema ecco se ci sono problemi con il mouse spegnere l'integrazione con la macchina virtuale ecco cosa vuol dire? che qui in basso vedete che è attiva in questo momento l'integrazione con il mouse se io disabilito questa integrazione il cursore del mouse lo vedo vedete diventa nero perché è quello di Chromium OS non è detto che ci sia sempre bisogno di togliere questa integrazione del mouse con la macchina virtuale io sto parlando di macchina virtuale se voi lo installate sul serio e non in una macchina virtuale ovviamente non avrete questo problema io devo usare questo compromesso perché sono in macchina virtuale ecco quindi questo punto l'ho visto perché l'abbiamo visto altro gioco di parole e vediamo un po' come si accede come si prepara al primo utilizzo di Chromium OS allora io quasi quasi metto icona le mie note la mia scaletta perché tanto resta solo un punto così mi si libera tutto lo schermo clicco all'interno per lavorare all'interno della macchina virtuale allora welcome perché è la prima volta che accediamo vedete poi linguaggio dunque inglese per difetto noi cerchiamo il nostro italiano italiano ecco qua e già si mette in benvenuto ho la nostra lingua tastiera USA o tastiera italiana lasciamo pure tastiera USA unità di rete va bene seleziono una rete va bene potete anche selezionare un wireless se siete su un vero pc o essendo in macchina virtuale va bene che simuli questo tipo di connessione facciamo continua nel nostro wizard iniziale ecco qua allora questo è quello che dicevo nella mia scaletta che posso prendere ancora brevemente ecco poi ci si può collegare con il proprio account gmail oppure si accede come guest come ospite sarebbe guest come semplice ospite ecco giusto per essere sempre sull'italiano ecco facciamo un vistino anche qui cosa vuol dire che qui se io ho il mio account gmail un po' come quando si usa il browser chromium per salvare le preferenze i preferiti e tutto quanto si può collegare il browser al nostro account gmail al nostro conto gmail e lo stesso vale per il sistema operativo chromium OS quindi si può saltare questo accesso immagino si potrà farlo in un secondo passo e accedere come ospite quindi probabilmente ci saranno delle funzionalità che non saranno disponibili essendo solo ospite adesso per non fare il video troppo lungo non vi mostro com'è accedere come ospite ma ne approfitto per il mio solito account demo ne approfitto per fare diciamo il wizard completo quindi adesso io inserisco il mio gmail account gmail per per mostrarvi proprio diciamo il wizard e l'impostazione completa come per usufruire completamente del sistema operativo ecco la password speriamo di scriverla giusta vediamo un po' tra l'altro spero che con la tastiera americana o meno non ho problemi vediamo subito se non mi accetta la password che la sto scrivendo sbagliata vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' ecco lo sapevo c'è la password sbagliata perché sto scrivendo in con la tastiera americana e questo è un problema quindi mi scuserete un attimo che mi scrivo la mia password da un'altra parte faccio copia e incolla se no hai voglia prendere i tasti quindi ci vediamo fra un attimo riprenderò la registrazione dopo rieccomi dovrei avere la password corretta a questo punto sapere come fare quindi riproviamo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' e voilà ce l'abbiamo fatta benissimo possiamo concludere il nostro wizard praticamente vedete qui sotto il pallino il quadratino bianco e l'ultimo abbiamo già finito qui possiamo scegliere un'immagine che ci rappresenti vabbè è uguale una qualsiasi vediamo gli scacchi ecco facciamo ok ed eccoci qua in chrome o chromium os vedete chrome il simbolo classico di chrome eccoci qua benvenuto nel tuo chromebook perché ovviamente il sistema operativo in quanto tale da per scontato che noi stiamo usando un pc dedicato un cosiddetto chromebook applicazioni web dello store lavorare offline qui vi presenta un po' tutte le caratteristiche come stampare cambiare lo sfondo padroneggiare la tastiera perché sapete che i chromebook hanno una tastiera particolare bisogno d'aiuto eccetera eccetera noi possiamo mettere l'icona questa finestra che se ci sentiamo persi nel nuovo sistema operativo possiamo sempre cliccare per leggere le caratteristiche quindi questo lo potete fare benissimo voi conosci il tuo touchpad salva i file eccetera eccetera lasciamola qui in basso a destra vedete che c'è la nostra iconcina che ci rappresenta se clicchiamo vedete che vi mostra che sono io con il mio account posso anche uscire dal mio account la tastiera americana c'è solo l'alternativa di tastiera italiana ma lasciamo pure quella americana che non dà fastidio una volta entrati connesso a internet vpn no bluetooth no il volume le impostazioni e vedete che è chrome settings un po' come insomma il sistema operativo chrome o chromium os è un po' come lavorare nel browser un browser un po' ampliato però vedete qua si può impostare lo sfondo è come usare il browser praticamente molte cose si assomigliano sono simili sincronizzazione eccetera eccetera vedete qui si può sincronizzare siccome mi sono connesso all'account posso sincronizzarmi né più né meno che con il browser normale le estensioni non ho ancora estensioni naturalmente è nuovo l'ho appena fatto cronologia penso poco o nulla ecco la guida help dispositivo aggiornato perché poi se arrivano aggiornamenti verrà aggiornato come il browser ricevi assistenza eccetera vedete e qui si chiude la finestra e qui abbiamo visto che sulla destra c'è questo menu classico delle impostazioni qui in basso c'è il punto di domanda per la guida la chiusura quindi l'uscita dal sistema operativo oppure il bloccarlo per poi chiederci la password qua abbiamo una nuova scheda quindi ci apre il navigatore web dove si può accedere anche al web store esattamente come il browser quindi vi sto presentando in sé un sistema operativo che google propone con dei pc dedicati i chromebooks ma in sé per chi è già abituato a usare il browser di google si trova praticamente già a casa lo vedete quindi qui c'è ancora un'icona che è quella delle applicazioni praticamente ora applicazioni io ho solo il browser si può andare nel web store chrome web store o i file che non sono nient'altro che la vostra area nella vostra nuvola o cloud di google drive quindi lo spazio disco in realtà è nella cloud è nella nuvola perché non so che spazio disco abbiano i chromebook ma il sistema operativo è votato ad internet quindi la memorizzazione primaria in realtà è votata verso google drive lo spazio rete google drive in rete quindi nella nuvola e non localmente ovviamente c'è lo spazio locale per lavorare offline cioè quando non avete possibilità di connettervi ad internet però in sé tutto quanto questo sistema operativo chrome os è votato alla rete e quindi google vi dà ovviamente il suo servizio di memorizzazione online quindi voi scrivete un documento un foglio di calcolo qualsiasi cosa e il vostro disco rd diciamo così è google drive ecco qui naturalmente non ho memorizzato niente a parte una cartelletta qui di paste forse di un video precedente su google drive chiaramente se io sono connesso al mio account in qualsiasi altro pc al di fuori di chrome os mi ritrovo se io carico su google drive le mie cose me le ritrovo qui ovviamente perché l'account è sempre quello qui se faccio degli scaricamenti mi vedrò cosa ho scaricato in locale sul disco del vostro chromebook eccetera quindi qui vedete che applicazione in questo momento non ne ho ancora installate dovrei andare nel chrome web store scegliermi quello che ho bisogno installarle poi qui appariranno man mano se volete questo richiamo un po' anche android questo simbolino questa icona a quadrettini a scacchiera richiamo un po' un telefono android nel quale voi cliccate e avete le vostre le vostre applicazioni così come questa disposizione delle impostazioni richiamo un po' così vagamente anche android ecco in sostanza non vi devo far vedere tanto di più perché è tutto qui chrome os è un sistema operativo votato ad internet alla rete e praticamente l'interfaccia è il browser il browser chromium rispettivamente chrome ecco avete visto l'installazione su ubuntu particolarmente comoda e semplice si installa un pacchetto quindi si esce da unity e si entra in chrome os potete avere due sessioni tranquillamente è anche questo un po' come android una curiosità perché come ho detto chrome os non ha ancora sfondato veramente come sistema operativo a meno che io sappia se ne parla come ho detto ma non è a livelli di linux windows o mac o sx però ecco lentamente si sta facendo la sua strada ed è anche una curiosità vedere com'è poterlo toccare con mano vedete che in una macchina virtuale lo si può fare piuttosto comodamente soprattutto su ubuntu con questo pacchetto dedicato che si integra benissimo con ubuntu e può conviverci benissimo ecco vi ringrazio per per l'attenzione come sempre questo mio video un saluto e vi attendo alla prossima al prossimo video grazie ciao ciao ciao